lancio lungo bravo bravo Calabria e voi 1 a 0 gol di Brahim Diaz che errore di Augello ragazzi e andiamo ragazzi abbiamo vinto abbiamo vinto e questi tre punti me li prendo però a me stasera il Milan mi ha fatto un po' cagare devo essere sincero ragazzi non mi è piaciuto per niente il Milan stasera sono contento per questi tre punti ma non riesco a esprimere tutta questa grande gioia questa grande felicità perché abbiamo giocato male stasera abbiamo giocato male tutti quei lanci lunghi non mi è piaciuto per niente sto Milan ragazzi devo essere onesto almeno voi datemi una soddisfazione prima di partire con il video ragazzi schiaffate un bel like mettete un pollicione su più per me che per il Milan di questa sera se volete ragazzi iscrivetevi qua sotto nel canale attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati e come sempre fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi un Milan veramente un Milan di lanci lunghi il primo tempo un Milan che poteva subito passare in vantaggio con Leao un Leao che il primo tempo non mi è nemmeno dispiaciuto poi il secondo tempo come tanti altri giocatori non è sceso in campo un centro campo che in fase difensiva in fase di contenimento ha saputo reggere la partita ma in fase propositiva Tonale ha sbagliato diverse ripartenze Krunic e Krunic le azioni più pericolose sono arrivate da lanci dalla difesa soprattutto Mignan ha rischiato di fare un grandissimo assist per Leao un Mignan che si è reso protagonista di questa partita su quell'errore di Hernandez ma anche su quella diviazione del giocatore della Samp che poi era in fuorigioco su quel tiro tutto sommato Mignan ragazzi si sta rivelando veramente all'altezza dell'ex 99 un acquisto veramente di qualità non ha preso un gol da quando sta giocando con il Milan quindi assolutamente uno dei migliori in campo insieme a Calabria che ha fatto un grandissimo assist per Diaz Diaz ha fatto un bel primo tempo probabilmente il più brillante del Milan in fase offensiva poi il secondo tempo è calato probabilmente la tenuta fisica di tutta la tre quarti offensiva del Milan non è ancora all'altezza Giroud me lo aspettavo ragazzi l'avevo detto anche nel pre partita nei video precedenti non mi aspettavo una gran partita stasera di Giroud un Giroud arrivato veramente strapompato dopo quella doppietta e Giroud ragazzi non è un giocatore da 20 gol io l'ho sempre detto per carità mi auguro con tutto il cuore di sbagliarmi ma non è un giocatore da 20 gol è un giocatore che aiuta la squadra questa sera è stato un po' fuori dal gioco le palle più interessanti ce l'ha avuta quando era in fuorigioco però ecco mi auguro che la prossima entrerà nel tabellino dei marcatori per questa sera stiamo a posto così anche un gol va bene l'importante è prendere i tre punti questa sera non c'era il centrocampo titolare quindi mi astengo da critiche particolari verso il gioco del Milan perché non era quello il centrocampo titolare oltretutto da Sandrino io lo scorso anno Sandrino l'ho difeso tanto però quest'anno mi aspetto personalità da parte sua una personalità che ho visto gli ultimi dieci minuti però non ho visto nell'arco degli altri 80 minuti soprattutto in fase offensiva perché in fase difensiva c'è ci sono i meccanismi anche Krunic non ha giocato male ma in fase offensiva secondo me in fase di costruzione non ha la verticalizzazione non ha quella profondità non ha quella giocata che pensavo ecco avesse nelle sue corde o che ha dimostrato di avere Brescia bene la difesa ragazzi come ha detto Calabria molto bene Tomori bene Kier diciamo che questa è stata è l'arma in più del Milan il non subire gol male Hernandez Hernandez direi peggiore in campo questa sera non mi è piaciuto errori un errore clamoroso che ci ha costato quasi il gol e soprattutto ha sofferto parecchio quando Candreva lo andava a puntare ragazzi fatemi sapere la vostra domani metterò le pagelle sicuramente la prossima in settimana farò una live per i sorteggi della Champions sperando che ci vada di culo ma in quarta fascia francamente ho piuttosto paura fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi una buona serata ci sentiamo domani ciao ciao